Adesso è un obbligo da parte delle amministrazioni comunali. Il comune di Bicelle lo ha già adottato, dice il sindaco, spiegando che quando si parla di corruzione non è necessario solo combatterla ma anche ridurre le opportunità e le occasioni, creare cioè un contesto sfavorevole al verificarsi di questi fenomeni. Il piano è pronto, i cittadini possono interagire con le istituzioni. Prevede tutta una serie di comportamenti per il personale e per i dirigenti in modo tale che sia garantita l'etica prima ancora che la correttezza è proprio l'etica nel comportamento del pubblico dipendente che deve riacquisire quella dignità e quella considerazione nella società civile di essere effettivamente al servizio dei cittadini e garantisce altresì elevati livelli di trasparenza, un'accessibilità totale che noi garantiamo attraverso il nostro sito, in particolar modo con la sezione amministrazione trasparente dove tutti i dati e le informazioni sull'attività, sui risultati conseguiti, su quello che va e su quello che non va sono a disposizione dei cittadini. Prima che da un punto di vista giuridico bisogna educare gli amministratori dal punto di vista etico. Abbiamo dato un input forte sul piano politico, il segretario generale e l'apparato burocratico del comune di Bicelli assolutamente efficienti hanno tradotto in atti normativi che abbiamo approvato nei vari step in consiglio comunale e poi anche in giunta e oggi ci troviamo qui a presentarlo alla città per poterlo migliorare soprattutto per far diventare Bicelli non soltanto un modello di efficienza amministrativa ma anche un modello di trasparenza e di legalità.